Cosa facciamo oggi? Allora, come avete visto nella mail che avete ricevuto, vi chiedevamo di intanto visionare i video tutorial a disposizione sulla nostra sezione supporto del sito etwinning.indire.it perché vi permette, in teoria appunto questi webinar sono rivolti a neofiti e quindi vi permette già di avere un'idea perché noi non affronteremo in questo webinar la parte tecnica della piattaforma ma solo una presentazione generale di etwinning e poi lasceremo ampio spazio alle nostre ambasciatrici che oggi sono Enrica Maragliano, ambasciatrice della Liguria e Maria Zambrotta, ambasciatrice del Piemonte e in particolar modo oggi ci rivolgiamo alle scuole superiori di secondo grado e alle materie STEM e quindi una puntata importante, diciamo, dei nostri webinar. Dopo il webinar avrete poi tempo di nuovo di visionare i video tutorial anche quelli sulla gestione del TwinSpace e comunque ci potete sempre contattare in caso di bisogno. Allora, che cos'è i Twinning? È una community che si sviluppa intorno a una piattaforma online dove gli insegnanti si possono incontrare, fare dei progetti insieme, collaborare e scambiarsi delle buone pratiche. e quindi serve per ricercare dei partner per dei progetti, non solo i Twinning ma anche Erasmus Plus ed altri progetti. Ci sono tantissime opportunità di formazione professionale online, in presenza, in italiano, in lingua, a livello europeo, a livello nazionale o a livello regionale e la possibilità di collaborare e sperimentare attraverso gruppi, eventi e appunto progetti. Le finalità principali di Twinning sono sicuramente l'innovazione didattica, la dimensione europea e la formazione e lo sviluppo professionale degli docenti. È importante sottolineare che i Twinning è soprattutto una rete di persone, è fatta proprio dai docenti, i docenti si registrano individualmente, non registrano a scuola ma si registrano individualmente portando appunto i dati della scuola solo perché noi dobbiamo valutare, controllare che siate davvero dei docenti, però la registrazione è individuale, è libera e la si fa se e quando si vuole ed anche il tipo di attività che si svolgano dentro alla community sono totalmente personalizzabili. Potete entrare facendo un webinar, potete entrare entrando in un gruppo Twinning, facendo dei progetti, scegliete voi appunto che tipo di impegno dare alla community. e poi è importante, è un punto dove si può sbagliare, dove si può prendere ispirazione dagli altri e questo è molto importante. Si suddivide in tre livelli, abbiamo un primo livello che è quello ESEP, è aperto diciamo un po' a tutti gli stakeholder del mondo della scuola, quindi non solo alle scuole ma anche alle università, associazioni, anche singoli individui che attraverso sempre le Ulogin possono registrarsi in ESEP. Solo i docenti però possono poi registrarsi ai Twinning che quindi prevede un filtro da parte delle unità nazionali come noi presso Indire che controllano tutte le registrazioni dei docenti e quindi si arriva a questo secondo livello solo se si è docenti. E poi si può accedere a un eventuale terzo livello laddove si decida di dar vita a dei progetti oppure a delle reti di docenti per i quali poi si ha accesso a un'ulteriore piattaforma che è una classe virtuale o comunque una piattaforma di collaborazione. Quindi il primo livello già permette una personalizzazione del profilo, un approfondimento, insomma vari approfondimenti, articoli e poi tutta una serie di opportunità di formazione che sono rivolte a tutti, però appunto non quelle riservate ai docenti. E si può già effettuare la ricerca partner, però la creazione dei progetti sia soltanto se si entra nel secondo livello, quello appunto che prevede la registrazione dei docenti e la ricerca dei partner per attivare dei progetti, per far parte di gruppi. E il terzo livello è quello a cui si accede invece laddove si riesca a incontrare un partner con cui attivare un progetto e quindi a quel punto si ha accesso a una classe virtuale in cui si possono invitare anche gli alunni. Appunto la parte tecnica non la sorvoliamo, vi ricordo soltanto che ci sono sul nostro sito i video tutorial, poi anche una guida pratica scaricabile e quindi tutti i materiali a disposizione sul nostro sito. Che cos'è un progetto e-tweening? Dunque un progetto e-tweening è un progetto di collaborazione a distanza che avviene principalmente online tra classi che possono essere italiane o straniere, nel senso che può anche essere che si faccia all'inizio un progetto nazionale, quindi tra due scuole italiane, anche se l'idea appunto è in prospettiva di arrivare a fare dei progetti europei con partner europei, anche perché il progetto nazionale ha tutta una serie di limitazioni tra cui quella di non poter far domanda al certificato di qualità. Ovviamente si basa sull'uso delle TIC, di internet, quindi del digitale, di una lingua veicolare, a meno che non troviate appunto dei partner che parlano in italiano, e poi utilizza una classe virtuale che ha tutta una serie di strumenti a disposizione come la chat, il forum, la videoconferenza, l'archivio dei file, eccetera. C'è un costante supporto tecnico e didattico da parte sia nostro a livello centrale che soprattutto della folta rete di ambasciatori che sono su tutto il territorio e presso anche gli USR. e l'importante è che appunto non ci sono finanziamenti rivolte alle scuole perché tutto avviene online, però questo dall'altra parte comporta che vi sia una totale flessibilità e un'assenza di vincoli burocratici, per cui decidete voi l'attività da fare, i temi da affrontare, la durata del progetto. Come si cerca un partner, di nuovo non approfondiamo, però soltanto per dirvi che nella pagina dell'European School Education Platform, ESEP, nella sezione Connect, trovate la sezione People e qui potete ricercare, intanto se sapete il nome e cognome della persona, la cercate direttamente, altrimenti con i filtri e la ricerca avanzata, potete selezionare, per esempio, sto cercando un docente che insegna inglese in Germania della fascia d'età 14-16 e quindi poi mi viene l'elenco di tutti quelli che corrispondono a questi filtri. Ovviamente più filtri mettete e più selezionata è il risultato. Altra sezione che vi segnalo al fine di creare un progetto è sempre in Connect la parte Partner Search, che praticamente sono dei forum cerca partner, che sono divisi per Erasmus qui sulla sinistra e e-twinning sulla destra, e in e-twinning divisi per fascia di età. E quindi è importante, se entrate adesso e se volete provare a cercare un partner per dar vita a un progetto, questa è una parte importante. Allora, come si fa a creare un progetto? Innanzitutto si individuano due fondatori, docenti di paesi diversi nel caso di progetti europei e devono essere già presenti tra i vostri contatti con i quali avete già concordato la struttura di progetto ovviamente e allora a quel punto potete dar vita a un progetto inviando una richiesta per fondare il progetto, l'altro partner lo accetta e a quel punto si dà vita a un progetto e si apre in automatico una classe virtuale privata riservata solo a voi docenti che poi appunto, che all'inizio è vuota e che voi dovrete poi popolare con pagine, attività e invitando anche i vostri alunni. Qui sorvolo, vado più velocemente, una struttura tipo di un progetto e-twinning ha una fase iniziale ovviamente di progettazione e coprogettazione tra i partner e anche di preparazione del Twin Space in modo tale che quando poi andrete a invitare gli alunni il Twin Space avrà già una struttura, avrà già una forma. In genere si comincia sempre con un'attività di icebreaking quindi chi siamo, conosciamoci, stimolando la curiosità e la motivazione. Spesso c'è una fase iniziale anche di presentazione e ricerca al di là del contenuto poi del progetto che può essere di storia, di matematica, di quello che volete voi però ci si deve conoscere all'inizio proprio perché siamo online e quindi è ancora più importante far sì che sia chiaro che dall'altra parte ci sono gli alunni, gli studenti che collaborano con noi e quindi la presentazione personale della scuola, della città, della regione questo sarete poi voi docenti a deciderlo. E poi si entra nel cuore delle attività ovviamente che possono essere più o meno complesse, più o meno lunghe a seconda della durata del progetto con i contenuti tematici e prodotti intermedi e la collaborazione e quindi qui è importante che vi sia una forte integrazione curricolare che siano previste delle attività di collaborazione a distanza e non lavoro parallelo che si dia un ruolo molto attivo anche agli alunni che vengano coinvolti possibilmente anche a volte nella progettazione o comunque nella scelta magari di alcuni temi da affrontare strumenti da utilizzare oppure anche nella valutazione stessa previsti ovviamente lavori di gruppo sia nazionali che trasnazionali e prodotti intermedi finali collaborativi e poi c'è una fase finale sempre di sia di valutazione che in genere è dei studenti, docenti e a volte per bambini più piccoli anche dei genitori più raramente lo si vede nelle superiori il coinvolgimento, diciamo, la valutazione dei genitori che rimane in genere studenti e docenti e poi è una fase finale di disseminazione i progetti di qualità sono diciamo, voi potete fare liberamente il progetto come volete può avere una durata minima può essere anche lo scambio di cartoline di Natale laddove però volete fare domanda per il certificato di qualità ci sono dei criteri, degli standard minimi da rispettare ci sono dei criteri di qualità che sono questi che vedete adesso a schermo che in particolar modo sono la collaborazione tra scuole e partner l'uso del digitale, gli approcci pedagogici innovativi l'integrazione curricolare, i risultati e la documentazione e sono dei criteri, diciamo, che stabiliscono degli standard minimi per i quali si può dire che si tratta di un buon progetto e twinning come si fa la progettazione? come si avvia un progetto e twinning? innanzitutto è importante che voi decidiate quali sono i vostri obiettivi quali sono le vostre priorità e gli obiettivi minimi perché poi, ovviamente, una volta che ci si butta alla ricerca di un partner ci sarà un partner che a sua volta ha degli obiettivi delle finalità, delle priorità e quindi si dovrà andare a cercare un compromesso perché il compromesso è indispensabile per una buona coprogettazione però è bene che voi abbiate sempre in mente quelli che sono i vostri obiettivi quello che voi volete raggiungere e che convolgiate anche gli alunni in modo tale che siano motivati e pianificate bene l'integrazione curricolare perché, come diciamo sempre non si tratta di fare un qualcosa in più ma di fare quello che fate normalmente in maniera diversa quindi in collaborazione con dei partner poi vi suggeriamo sempre di valutare bene la sostenibilità del progetto che state per fare innanzitutto la gestione del tempo quante ore a disposizione potete avere quante ore potete dedicare al progetto avete dei colleghi con cui collaborare per cui avete anche le loro ore oppure comunque avete il loro sostegno che tipo di accesso avete alle risorse alle tecnologie, a internet e che tipo di collaborazioni potete anche ottenere all'esterno da genitori, da associazioni da chiunque vogliate coinvolgere nel progetto e poi ovviamente una parte molto molto importante è la sintonia col partner cioè il dedicare tempo sia alla scelta del partner giusto che all'esplorazione dei rischi obiettivi alla condivisione di obiettivi e priorità in modo tale che non ci siano sorprese dopo quindi si tratta di investire un po' di tempo all'inizio che poi vedrete sarà sicuramente proficuo successivamente quindi mantenete una comunicazione costante e frequente un rapporto di fiducia e trasparenza e Twining permette una grande flessibilità per cui anche quello che voi inizialmente progettate di fare a inizio anno quando approvate il progetto quando chiedete l'approvazione del progetto può cambiare perché tutte le esigenze le vicissitudini possono cambiare quindi tutto si può fare tutto si può cambiare l'importante è che sia patteggiato che sia concordato con i partner l'importanza per noi è sempre sottolineare è importante sottolineare quanto sia importante collaborare e pianificare delle attività che siano veramente collaborative la collaborazione non è implicita al fatto che stiamo lavorando insieme e che abbiamo una classe virtuale comune perché può darsi che che facciamo delle attività le carichiamo sul Twin Space il partner fa delle attività in parallelo le carica sul Twin Space e ci sembra di collaborare ma in realtà la collaborazione non si può improvvisare va pianificata e si deve organizzare appunto delle attività che rendano necessaria la collaborazione far sì che per realizzare l'obiettivo il task l'alunno sia costretto in qualche modo a collaborare con il partner e quindi un esempio di collaborazione io descrivo la mia regione e le attrazioni e faccio una guida virtuale della mia regione lo stesso fa il partner la carichiamo tutti sul Twin Space e i docenti la raccolgono e fanno un ebook con le guide virtuali delle due regioni questo è un lavoro parallelo se invece magari io descrivo la mia regione ma tu fai la guida virtuale sulla mia regione e viceversa oppure le guide virtuali sono il prodotto di un lavoro veramente collaborativo per esempio attuato attraverso dei lavori di gruppo in gruppi internazionali misti quindi allora sicuramente questa è collaborazione quindi le attività collaborative sono studenti che hanno bisogno del contributo del partner per portare a termine il proprio compito quindi nella stessa progettazione delle attività voi dovrete fare in modo sì che far sì che lo studente abbia necessità di interagire con i partner col suo piccolo gruppo internazionale o con un partner in particolare per riuscire a portare a termine la propria attività oppure lavorano su un prodotto comune in gruppi misti quindi per esempio facciamo un ebook che però non sia un aggregato dei lavori individuali ma sia davvero il risultato di un lavoro collaborativo gli esempi di prodotti finali sono tanti un museo virtuale un business plan un nuovo prodotto una campagna promenzionale uno storytelling e adesso le nostre ambasciatrici vi daranno tantissime altre idee più tarate sul tema altro tipo di attività collaborative l'interazione appunto che avviene frequentemente è diretta per cui gli studenti l'interazione tra gli studenti non è immediata dai docenti ma avviene direttamente attraverso videoconferenze con la chat con i forum attraverso i documenti condivisi e quindi è importante che questi tipi di contatti avvengano spesso siano frequenti ed è anche importante come vi ho già detto prima che si preveda un ruolo molto attivo degli studenti nelle varie fasi del progetto nel vostro caso è anche più facile perché avete studenti che sono già più grandi e quindi possono essere coinvolti già nella scelta del tema da affrontare nel tipo di gruppo in cui vogliono stare nell'argomento che vogliono affrontare nello strumento magari dite vabbè studiate questo argomento e poi fate un prodotto finale che può essere un video un podcast una presentazione insomma anche nella scelta del modo di presentare e nello strumento da utilizzare ci può essere un'ampia responsabilizzazione degli studenti alternate poi il lavoro di gruppo e il lavoro individuale e li potete anche coinvolgere nella valutazione stessa sia del progetto che delle attività come trappari infine è importante documentare quindi quello che fate è importante pianificare la documentazione delle attività spesso si dà per scontato si sorpassa si sottovaluta diciamo questo aspetto però è molto importante che si documenti anche durante il progetto non soltanto alla fine perché alla fine poi ci si trova che tante cose sono successe non sono state documentate vanno perse e invece è importante documentare non solo i risultati finali la presentazione finale ma anche come si arriva a questo risultato i processi che hanno portato all'elaborazione del prodotto finale cioè vedi l'esempio dell'ebook l'ebook di per sé può non avere nessun senso cioè può essere prodotto di un lavoro parallelo oppure se spiegate e documentate come si arriva a quell'ebook può essere un bel esempio di lavoro molto collaborativo e qui se non documentate in itinere il processo che ha portato a formare l'ebook si perde quel valore aggiunto e quindi è importante documentare ciò che è invisibile una sessione live il miglioramento delle competenze degli alunni il miglioramento delle competenze trasversali l'inclusione di soggetti svantaggiati cioè tutte cose che magari voi conoscete perché siete dentro la classe ovviamente ma che da fuori non possono non possono essere viste che invece hanno valore alle attività che avete fatto vi ricordo prima di chiudere che quest'anno è dedicato all'educazione alla cittadinanza e ai valori europei è il tema dell'anno 24-25 ci sono tutta una serie di attività in piattaforma e in particolar modo c'è un gruppo online dedicato al tema che organizza varie attività vari incontri e dove trovate anche tutta una serie di materiali didattici che potete utilizzare quindi l'ultimo consiglio che vi do prima di chiudervi e di lasciare spazio appunto alle nostre ambasciatrici è il famoso KISS keep it short and simple quindi cominciate da una cosa semplice avete tutto il tempo per poi migliorare cercare cose più complesse ma potete cominciare tranquillamente da un progetto semplice breve e più facile tra virgolette per poi col tempo andare a cercare altro perfetto io vi ringrazio e spero di essere stata chiara e lascio adesso la parola a Maria Zambrotta e a Enrica Maragliano grazie Alex Maria vuoi cominciare tu con la condivisione del tuo della tua presentazione come volete mi sembrava avessimo concordato Enrica ma come volete allora sì Enrica sono io che mi sono confusa scuso aspetta che devo devo diventare aiuto devo diventare ah sono già sono già sono già coordinatore ok va benissimo allora tanto tanto che condivido lo schermo mi presento io sono Enrica Maragliano insegno matematica e fisica al liceo classico linguistico Mazzini e che è stata tra l'altro la mia scuola di quando io ero studentessa e quindi come dire ero prima fino a cinque anni fa insegnavo comunque in un liceo analogo cioè in un classico che poi ha avuto anche il linguistico quindi premetto appunto che insegno matematica e fisica in un posto dove la matematica e la fisica non sono le materie di indirizzo quindi mi devo sempre un po' arrangiare insomma quindi quello che io vi voglio vi voglio raccontare in realtà è un progetto che io ho fatto il primo anno che sono arrivata nella nuova scuola quindi era l'anno scolastico 20-21 eravamo in piena pandemia i ragazzi avevano un problema perché era una classe di nuova una all'epoca si chiamava quarta ginnase diciamo una prima liceo classico in cui ho studiato una prima liceo linguistico nella quale i ragazzi dovevano conoscersi e quindi avevano diciamo delle difficoltà perché c'erano le rime buccali c'erano tutte queste cose quindi in realtà dovevamo anche noi insegnanti cercare di formare un gruppo classe e nello stesso tempo avevo comunque voglia di fare un progetto e-twinning e ho pensato di contattare i miei partner e pensare di fare un progetto che riguardasse le statistiche le statistiche fatte diciamo relativamente alla navigazione sicura in rete quindi un tema comunque attuale che coinvolge bene l'educazione civica e che permette un sacco di sviluppare un sacco di competenze quindi competenze collaborative eh competenze digitali competenze comunicative perché comunque i ragazzi dovevano parlare eh in inglese e anche la capacità di risolvere problemi quindi eh questa i partner ehm sono stati a parte la nostra scuola la uno partner dei partner storici diciamo tutte persone che io comunque conoscevo partner affidabili ed erano abbastanza tanti io di solito faccio progetti con meno partner quella volta lì è finita è finita così diciamo che abbiamo fatto un progetto tra l'altro notate con una scuola portoghese e una scuola bulgare una scuola turca quindi avevamo comunque tre fusi orari di differenza meno male tra virgolette meno male ovviamente che eravamo a casa e quindi anche i ragazzi erano a casa e quindi abbiamo potuto fare organizzare le videoconferenze anche al pomeriggio eccetera perché ovviamente nessuno poteva fare attività sportive insomma le attività normali che fanno i ragazzi spesso al pomeriggio ovviamente non erano non erano possibili quindi siamo riusciti a collaborare bene anche con queste grosse alimentazioni di fuso orario proprio per questo dunque perché abbiamo scelto questa questa tematica innanzitutto le statistiche sono uno strumento molto flessibile che coinvolge la matematica però che può coinvolgere facilmente altre discipline e io tra l'altro ero nuova nella scuola quindi non conoscevo molto i miei colleghi non sapevo cioè dovevo un po' ambientarmi anch'io quindi ho pensato comunque di fare un progetto sulla navigazione in rete che sembra comunque una cosa molto attuale eravamo tutti online in quel periodo insomma quindi era giusto che i ragazzi avessero una diciamo un'educazione particolare in questo senso quindi che cosa abbiamo fatto avevamo tutti lo stesso scopo perché poi anche i miei partner hanno subito accettato di volentieri l'invito proprio perché in tutte le in tutte le scuole partner comunque c'era questo discorso di di parlare diciamo magari non chiamando l'educazione civica però di parlare della navigazione sicura in rete quindi abbiamo fatto un'attività di icebreaking come diceva Alex prima abbiamo fatto diviso i ragazzi in gruppi di lavoro internazionale abbiamo lavorato in modalità project based learning quindi i ragazzi dovevano risolvere un problema partendo da una driving question e hanno e hanno e hanno creato un prodotto finale che guarda a caso anche per noi è stato un ebook però poi vi faccio vedere come è stato creato e diciamo come si è come si capisce diciamo in qualche modo che l'ebook è stato fatto insieme dai ragazzi le attività di icebreaking sono state fatte diciamo utilizzando un sondaggio mentimeter che ha permesso di rispondere alla driving question del progetto poi vi faccio nella pagina successiva ci sono le schermate quindi abbiamo generato una nuvola di parola in cui i ragazzi hanno messo in evidenza i temi principali sui quali poi hanno lavorato cioè sono stati quelli dai quali poi diciamo gli insegnanti e i gruppi internazionali hanno iniziato a lavorare per identificare i vari i vari argomenti sui quali poi si sono convogliate diciamo le statistiche e lo diciamo la prima l'analisi da parte dei ragazzi e quindi le statistiche un'altra cosa che abbiamo fatto e questo va bene per progetti con almeno tre partner è il gioco delle città quindi questa qua è una cosa che ci siamo un po' inventati ormai riproponiamo ciclicamente in tutti i progetti con almeno tre partner in cui noi facciamo vedere dei monumenti delle ricette di cucina delle tradizioni c'era il braccialetti c'erano le cose mi ricordo che avevamo messo anche non so il macramè in Liguria eccetera e quindi dove i ragazzi lo sapevano perché per noi è facile io sono di Genova se uno vede la lanterna è chiaro che la lanterna a un ragazzo di Genova sa immediatamente dov'è ma ovviamente quelli delle altre scuole partner non lo sapevano quindi i ragazzi hanno dovuto collaborare usando il forum del progetto e scambiandosi le indicazioni su qual era la risposta giusta da dare e abbiamo lavorato con Socrati in cui c'erano tutti i razzetti che funzionavano i ragazzi tenete presente che in questo caso stavano lavorando online da casa non erano a scuola quindi queste sono state un po' di attività di icebreaking vediamo non riesco a ingrandire lo schermo ma comunque queste poi sono ecco quella lì un'altra attività che abbiamo fatto durante la conferenza durante il sondaggio Mentimeter è stato anche scegliere un background per poi fare un logo collaborativo l'abbiamo fatto facendoci dare dai ragazzi delle foto o create con Creative Commons o comunque di loro proprietà in cui poi abbiamo diciamo con un tool che si chiama Turbo Mosaic abbiamo creato il logo del progetto con tutte queste diciamo creato formato con tante tesserine di questo piccolo puzzle formato da tante da tutte le loro fotografie una cosa questo avrete il gioco delle città quindi questo vediamo questo è un purtroppo il vecchio io non ce l'ho più questo è quello che abbiamo fatto recentemente diciamo due o tre settimane fa con un'altra altre due scuole una di di sinniklas in Belgio un'altra di Moriac in Osernie in Francia e vedete queste sono ovviamente io non so questa perché è stato a Genova riconoscerà Piazza dei Ferrari ovviamente uno studente che non è di Genova può avere dei dubbi può non sapere le cose quindi qui abbiamo messo le richiese le cattedrali questo è una montagna cioè questa è Genova però questo qua è un picco di quelli vulcanici che sono vicini a Dovergne ovviamente in Belgio montagne ne hanno molto poche ci abbiamo messo il laghetto poi ci abbiamo messo un po' di cioccolata un po' di formaggio un po' di troffiette col pesto eccetera e quindi questo l'abbiamo proprio fatto quindici giorni fa quindi tanto per per darvi un'idea un'altra cosa che abbiamo fatto recentemente in realtà da quando è intervenuta la nuova piattaforma che non era molto usabile e quindi abbiamo dovuto aggiustarci allora ci è venuto in mente di chiedere il progetto dopo la conferenza di Icebreaking di credere all'approvazione del progetto dopo l'approvazione della conferenza di Icebreaking uno l'abbiamo proprio chiesta ieri sera perché ieri mattina con la mia partner portoghese quella che avete visto di Matosigno abbiamo fatto ieri la videoconferenza i ragazzi ci hanno dato delle ottime idee abbiamo scoperto che i ragazzi sono molto più creativi di noi e quindi vengono fuori con delle idee perfette per il titolo del progetto questo con le scuole questo che è di nuovo un progetto di statistica con la scuola belga e la scuola francese sulle abitudini degli adolescenti si chiama Euroteen invece quello che abbiamo fatto ieri che sarà invece sui modelli matematici sarà aiuto life model life una roba del genere quindi abbiamo quindi diciamo sfruttiamo un po' i ragazzi intanto collaborano iniziano a vedersi a fare delle cose perché le videoconferenze è bene farle però le videoconferenze devono essere fatte molto ben strutturate altrimenti i ragazzi cioè c'è rumore si sente si sente si dà fastidio insomma bisogna che si sappia bene che cosa fare durante le videoconferenze poi ovviamente abbiamo diviso i ragazzi in gruppi internazionali io purtroppo non ho più i gruppi internazionali del vecchio progetto perché era stata fatta una tabella adesso invece mettiamo le figure e quindi questa è la figura diciamo del progetto che ho fatto con francesi e belgi e quindi diciamo nei gruppi internazionali i ragazzi hanno dovuto lavorare sulla piattaforma usando il forum definendo le domande da fare poi abbiamo chiesto ai partner ai nostri amici diciamo in Europa abbiamo avuto quasi 500 risposte e i ragazzi poi hanno dovuto analizzarle interpretare i dati e e creare diciamo degli histogrammi delle dei diagrammi a torta a seconda di quello che era richiesto in base alla alla domanda e insomma anche al tipo di risposta che si andava a cercare quindi hanno poi dovuto sviluppare competenze digitali hanno dovuto lavorare a distanza quindi sviluppare abilità interpersonali anche tra di loro perché erano a casa tutti quindi e quindi questo è stato veramente un apprendimento attivo ancora ho parlato di questo progetto a settembre durante il regionale Ligure e ho invitato la mamma di una mia studentessa che è un'insegnante che era presente come diciamo nell'audience è venuta e ha raccontato brevemente la sua esperienza da un punto di vista della famiglia e ancora adesso lei benché poi noi abbiamo vinto diciamo premio eccetera però questo qui è un progetto al quale tutti siamo un po' rimasti legati quindi ho parlato anche di questo perché secondo me era un progetto proprio bello bello e insomma difficile anche data le condizioni quindi i ragazzi hanno lavorato tra di loro hanno lavorato sul forum non ve lo posso far vedere perché purtroppo il vecchio tool space non ce l'ho più hanno lavorato su google fogli per fare le statistiche hanno lavorato su google documenti per fare i vari capitoli del twin space dell'ebook e hanno fatto proprio tutto a partire dalla copertina noi insegnanti abbiamo fatto l'indice e la e la introduzione diciamo all'ebook quindi i lavori di gruppo sono stati sono venuti benissimo tutti quanti hanno collaborato ognuno aveva diciamo il suo compito da fare è stato veramente un progetto venuto bene questo è vedete hanno lavorato durante il forum ora questo non è il forum di un altro progetto perché purtroppo non ce l'avevo il vecchio progetto è rimasto nei vecchi twin space non c'è più abbiamo fatto un sondaggio che era basato sulla diciamo sulla driving question del progetto questo è il foglio elettronico che invece vi posso far vedere vedete abbiamo avuto 500 qui vedete abbiamo non solo Italia e Turchia ma abbiamo chiesto anche la collaborazione di Spagna cioè avevamo addirittura uno ci ha risposto da un posto strano nemmeno in Europa lui era un po' difficile comunque abbiamo avuto vedete 453 risposte quindi insomma una una bella a quel punto lì i ragazzi non potevano utilizzare il contare quindi dovevano usare per forza chi conosce i fogli elettronici dovevano usare le funzioni conta se eccetera perché altrimenti non riuscivano a fare le statistiche in modo corretto poi una volta diciamo fatti i dati creati gli histogrammi diagramma torta questo è il 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 foglio di diciamo il documento google del progetto e allora quello che noi abbiamo fatto è stato dare un'indicazione cioè abbiamo dato il titolo e quindi ogni gruppo aveva il proprio argomento poi abbiamo chiesto insieme di scrivere un'introduzione e ci siamo anche ben confrontati sul fatto che non avessero copiato eccetera qualcuno l'abbiamo pescato e l'abbiamo fatto rifare fortunatamente non erano ragazzi italiani poi abbiamo fatto chiesto per ogni per ogni domanda vedete questa era la prima domanda del avevano cinque domande mi pare per ogni gruppo che cosa fate per che cosa fai per proteggere la privacy hanno scritto delle cose e che noi insegnanti ovviamente abbiamo rivisto sia da un punto di vista della lingua che anche da un punto di vista dei contenuti e questo e poi hanno messo gli histogrammi quindi vedete ogni capitolo era strutturato in questo modo quindi vari gruppi internazionali hanno contribuito a scrivere ogni pagina del capitolo vedete anche la differenza di stile perché ovviamente i ragazzi erano anche a distanza e quindi era più difficile collaborare perché non ci avevamo tutti sotto il naso e poi abbiamo chiesto ai ragazzi di nuovo di scrivere tutti insieme la conclusione comunque erano ragazzi di prima di prima liceo linguistico quindi di prima superiore piccolini insomma con relativa esperienza nell'uso di questi strumenti anche perché il covid l'avevano visto diciamo da marzo quindi non avevano tutte queste questo questa abitudine a usare gli strumenti questo è il risultato che è l'ebook quindi l'ebook aspetta che arriva l'ebook è questo fatto con calameo i ragazzi hanno fatto tutto compresa la compresa la copertina e vedete questo l'abbiamo scritto noi insegnanti l'indice diciamo l'abbiamo fatto noi abbiamo scritto l'introduzione e poi tutti gli altri capitoli sono stati preparati dagli studenti quindi vedete qui avete le varie pagine nella presentazione c'è il link quindi ve lo potrete poi andare a vedere se vi interessa direi che è comunque un lavoro interessante ecco perché è un lavoro fatto dai ragazzi con ripeto abbiamo avuto circa 500 risposte quindi ovviamente non è un'indagine statistica attendibile però comunque è una cosa che diciamo di tanti paesi europei eccetera quindi abbastanza varia abbiamo fatto una videoconferenza conclusiva nella quale noi integriamo sempre qualche attività basata sul gioco proprio per coinvolgere i ragazzi e come dicevo le videoconferenze devono essere ben strutturate anzi mi viene in mente adesso scusate torno un attimo indietro perché mi viene in mente che nell'attività di ace breaking dove l'ho messa non la trovo più però aspetta che forse è qui volevo farvi vedere una videoconferenza che ho come abbiamo creato le videoconferenze qua questa è quella che abbiamo fatto ve la faccio vedere brevemente che abbiamo fatto con diciamo la scuola belga e la scuola francese questo proprio per dire come è bene strutturare le cose quindi prima abbiamo fatto l'attività con Mentimeter i ragazzi con il loro cellulare hanno diciamo si sono letti il QR code questi erano i gruppi internazionali nei quali sono stati divisi i ragazzi la seconda attività quindi terminato il sondaggio con Mentimeter hanno giocato a Socrative ne abbiamo spiegato bene che cosa fare quali erano le varie attività in modo che non ci fossero dubbi eccetera anche che dovessero essere gentili se i compagni dovevano lasciare il tempo di aspettare a volte gli adolescenti sono molto irroenti quindi e poi ogni gruppo dato che il Twin Space non potevamo lavorare sul forum perché non avevamo ancora Twin Space ogni gruppo ha lavorato su un Google Drive quindi questa è l'attività scusate sono tornata un attimo indietro ma mi ero dimenticata di farvelo vedere però ci tenevo a farvi vedere come si possono strutturare le videoconferenze e poi quindi nelle videoconferenze comunque appunto inseriamo per esempio un'altra cosa che abbiamo fatto ultimamente è creare delle escape room virtuali quindi adesso con geniali direi che è abbastanza semplice come vedete qua loro possono spostare si trovano gli oggetti adesso non li trovo ma comunque diciamo con geniali è abbastanza semplice trovare le immagini tra l'altro queste le hanno create i ragazzi in un progetto dell'anno scorso sulle strade romane e sono stati le immagini di sfondo sono state create utilizzando l'intelligenza artificiale quindi anche lì abbiamo comunque dato un'idea poi una cosa che si può fare adesso non ci sarà più dalla fine dell'anno però è utilizzare qualche strumento proprio perché i ragazzi comunque si vogliono parlare eccetera e quindi un po' di firme un po' di ciao ciao eccetera questo invece era il caout che abbiamo fatto con la classe del di quel progetto che dicevo sulle statistiche ovviamente è importante che ci sia una valutazione sia formativa che sommativa noi proprio diamo un voto di e-twinning quindi l'anno scorso diciamo questo progetto sulle strade romane questo voto ha contribuito esclusivamente all'educazione civica però in alcuni casi anche per dire invece nel progetto delle statistiche per quanto mi riguarda il voto almeno era anche relativo a matematica quindi c'è una valutazione sia formativa che sommativa che di solito tra l'altro aiuta perché i ragazzi sono molto interessati a questi a questi strumenti questi sono invece la valutazione del progetto da parte dei ragazzi e quindi questi sono le domande a cui hanno risposto queste sono le domande del progetto sulle statistiche che vi ho raccontato questa è l'era originale dell'epoca quindi avete come vedete insomma poi questo link l'avrete e potrete andarvelo a vedere e usiamo anche delle griglie di valutazione che ci permettono di di capire diciamo di 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 valutare per ogni ragazzo come è stata la la loro il loro coinvolgimento abbiamo disseminato a parte sul sito della scuola eccetera noi quello che facciamo per esempio questo ce l'avrete e potete andarvelo a vedere mi pare che sia pagina 145 adesso non vorrei dire una stupidaggine ma 45 vediamo se mi ricordo bene 145 151 no forse 151 quasi finito vediamo un po' se mi ricordo eh sì vedete questo è il progetto delle strade romane in cui abbiamo a cui abbiamo partecipato io la mia amica francese e una una scuola burga scusate ungherese vicino a Budapest quindi qui c'è il racconto del progetto quindi se vi interessa eh potete potete poi andarlo a leggere e eh quindi la disseminazione diciamo è molto importante si possono coinvolgere comunità locali per esempio noi nell'ultimo progetto abbiamo fatto venire a fare una videoconferenza una ehm archeologa era un progetto sulle strade romane che è la direttrice degli scavi di Luni è venuta nella nostra scuola ha fatto una videoconferenza alla quale hanno partecipato anche i pro i i diciamo i colleghi i nostri studenti e i colleghi delle altre scuole quest'anno ho scritto all'Istat ma li ho scritto qualche giorno fa non mi hanno ancora risposto per sapere se vengono a farci una lezione in inglese aperta ai ai colleghi ai partner quindi questo direi che è quanto io posso scondividere il mio schermo e lascio la parola a Maria e spero di essere stata nei tempi diciamo grazie Enrica perfetta ah ovviamente comunque domanda poi sono a disposizione grazie sì ho condiviso il link per raccogliere le domande in chat quindi apritelo pure e annotate le vostre curiosità lascio la parola a Maria sì volevo un attimo ci sono arrivate tante informazioni quindi insomma un attimo di decantazione io intanto quindi condivido così quando è pronto me lo dite perché ti immagino che la connessione vediamo Maria perfetto perfetto allora io invece sono più praticona rispetto a Enrica io insegno chimica in un istituto tecnico di Torino e e ho iniziato la mia attività retwinning nel 2018 proprio continuando il mio lavoro da chimico e quindi i progetti che vi presento poi negli anni sono stati differenti però più o meno in tutti ho cercato di inserire delle attività laboratoriali per quello ho intitolato il la insomma la conferenza come CLIL attività laboratoriali e e-twinning io appunto insegno chimica parlo inglese più o meno quindi ho un inglese diciamo così veicolare non sono non ho una seconda laurea in lingue nonostante tutto ho deciso e ho voluto mettermi in gioco quindi ho chiesto sempre la collaborazione della collega di inglese e dei colleghi di informatica i lavori che vi presento sono stati condotti in un biennio dell'istituto tecnico e poi nella classe terza sono in realtà due lavori quelli che vi che vi presento perché sono uno è relativo a un progetto eh Europe Experiments with Chemistry è un progetto che ha visto solo tre partner il coordinatore era il collega spagnolo poi c'eravamo noi è una scuola slovacca e una e quindi questo progetto lo vediamo più in dettaglio perché poi è quello che ha rappresentato diciamo così gli elementi guida anche del progetto successivo e un altro progetto che invece è sempre simile perché infatti è sempre sulla sperimentazione scientifica ma come vedete dall'immagine sono tantissimi i partner quindi 12 scuole 19 docenti 168 studenti coordinato dal collega belga perché ho messo tutte e due con queste immagini perché secondo me nel secondo il secondo progetto non siamo neanche riusciti a portarlo a termine tutti 19 scuole erano veramente tanti e soprattutto anche la collaborazione con 168 studenti diventa complicata quindi laddove voi volete iniziare un progetto volete avviare un progetto sicuramente i partner devono essere affidabili come diceva Enrica fate anche attenzione a iniziare secondo me consiglio con dei progetti semplici anche dal punto di vista numerico in modo che veramente si riesca a far collaborare gli studenti l'un l'altro perché se no non riescono neanche a conoscersi bene quindi quello che vi presento adesso sono le attività che abbiamo sviluppato all'interno di entrambi quindi l'idea qual è intanto l'idea originaria era di entrambi di tutte le scuole sto parlando soprattutto del primo quello che ha coinvolto le tre scuole l'idea era quella di utilizzare il laboratorio di scienze il laboratorio di chimica quindi far lavorare i ragazzi quindi proprio praticamente però anche svolgere delle attività collaborative in e-tweening quindi anche farli parlare inglese anche fare in modo che loro riescano a redigere una relazione di laboratorio far sì che loro riescano a capire quali erano gli elementi importanti di un determinato esperimento e riuscissero anche a comunicare questi elementi importanti ai loro compagni quindi un progetto che è stato sviluppato in diversi locali della scuola laboratorio biblioteca e aula di informatica e che è stato in diversi livelli collaborativo come abbiamo fatto per definire che cosa fare noi docenti ci siamo trovati ecco io l'abbiamo pensato un po' prima noi confrontando i curricula delle diverse scuole quindi valutando quali erano gli elementi comuni ai tre curriculum didattici e quindi individuando all'interno di questi curricula gli elementi che potevano essere di interesse comune ogni progetto come diceva anche Alexandra inizia con una conoscenza quindi i docenti se non si conoscono prima io non li conoscevo questi colleghi con cui ho lavorato se non si conoscono prima riescono a comunicare con dei meet con dei webinar e i ragazzi bisogna creare delle attività quindi un po' come diceva anche Enrica noi abbiamo risolto diverse attività una è stata quella di presentare loro stessi attraverso l'utilizzo di questo padlet in cui hanno inserito dei loro avatar quindi non abbiamo utilizzato delle foto abbiamo utilizzato l'avatar questi erano stati preparati con con vochi adesso forse vochi a pagamento però visto che ci sono altri altre app altri tools con cui si riesce a produrre un avatar senza senza costi poi abbiamo presentato dei video di presentazione della nostra scuola quindi i ragazzi sono andati in giro per l'istituto cercando di spiegare insomma ai loro compagni che avrebbero dovuto fare delle riprese quindi delle foto e abbiamo creato una etichetta collaborativa quella che vedete nella foto è una pagina di jamboard quindi sì non ci sarà più jamboard però potremmo trovare un altro un'altra modalità di collaborazione una etichetta condivisa in cui ogni studente indicava quali erano gli elementi importanti secondo lui poi tutti questi elementi sono stati raccolti e inseriti nel Twin Space ho visto anche adesso in vari progetti nuovi che spesso le regole vengono dettate dai docenti e inserite questo mi era piaciuto questo elemento perché era uno dei diversi progetti che ho fatto all'interno del quale sono stati proprio i ragazzi a riflettere in modo collaborativo su quali erano le regole che loro stessi dovevano darsi e poi la condivisione del logo quindi anche lì si hanno creato diversi loghi in questo caso il logo era era stato disegnato poi noi abbiamo poi all'interno delle varie delle varie classi è stata effettuata la la scelta del logo anche utilizzando la stessa pagine di del del Twin Space che consente attraverso una funzione di effettuare poi la scelta tra diverse immagini e quindi come abbiamo detto come è stato ripetuto più volte il lavoro collaborativo è un elemento importante come fare a fare un lavoro collaborativo laddove uno degli elementi cardine era l'attività manuale in laboratorio di laboratorio uno lo fa in Italia l'altro lo fa in Spagna quindi in che modo potevamo essere collaborativi abbiamo pensato di creare una collaborazione cioè un'attività in due momenti in cui come vedete qui spero che si riesca a vedere c'è un anche lì come diceva Enrica dei gruppi internazionali un gruppo a un gruppo un gruppo di studenti aveva il compito di individuare qual era la tematica che volevano affrontare quindi un gruppo di studenti ha effettuato la ricerca e ha pensato non so io voglio fare un esperimento una reazione chimica questa reazione chimica perché mi piace perché questo è il significato perché voglio passare questa informazione quindi un gruppo di studenti ha individuato la tematica e l'altro quindi e ha creato delle indicazioni per un secondo gruppo che ha dovuto realizzarla quindi collaborative era un gruppo dava le indicazioni l'altro lo realizzava e viceversa e poi c'è stato il confronto dell'attività svolta alla fine di tutto di tutta l'operazione insomma quindi della realizzazione dell'attività laboratoriale sono stati creati delle domande sempre da parte dei ragazzi e quindi poi è stato costruito un quiz per cui anche la valutazione finale della conoscenza diciamo e delle abilità acquisite è stata effettuata utilizzando delle domande che erano state preventivamente pensate dai ragazzi questi team internazionali erano però super diciamo coordinati dai docenti quindi anche per quanto riguarda i docenti anche noi docenti ci siamo dovuti dare dei compiti all'interno dello sviluppo del progetto per cui non era non era dedicato insomma delegato tutto al coordinatore ognuno di noi aveva il compito di coordinare una squadra di valutare le attività di quella squadra e quindi in qualche modo era coinvolto in prima persona anche nel sviluppo del progetto la cosa interessante è l'integrazione curricolare di questa attività perché appunto io insegnando chimica non potevo valutare solo la lingua inglese e quindi abbiamo poi inserito la valutazione anche delle attività laboratoriali quindi della modalità con cui loro hanno condotto l'esperimento la modalità con cui l'hanno presentato e abbiamo diciamo così fatto valere questo lavoro sia nel voto di inglese che nel voto di chimica negli ultimi progetti cioè quelli più recenti in cui poi è stata introdotta anche l'educazione civica anche all'interno dell'attività di educazione civica sono state quindi svolte due tipi di valutazione come diceva anche Enrica prima una valutazione sommativa come vi dicevo con delle domande che sono attinenti proprio l'argomento che sono state pensate dai diversi gruppi quindi dai diversi gruppi internazionali quindi sono state poi queste domande collezionate all'interno di un documento unico che era questo quizis a cui gli studenti poi hanno dovuto rispondere per rispondere a queste domande però hanno dovuto visionare tutto il lavoro di tutti i gruppi quindi non so se adesso poi vi farò vedere l'ebook finale del progetto quindi forse si capisce un po' meglio qual era l'attività ogni gruppo effettuava un esperimento e all'interno dell'esperimento chiaramente c'erano delle tematiche che venivano prese in considerazione alla fine si creava una rassegna di domande e tutti gli studenti rispondevano a tutte le domande questa è la rubrica di valutazione che è stata utilizzata da parte dei docenti per definire il coinvolgimento degli studenti all'interno del progetto e l'acquisizione di contenuti insomma di competenze da un punto di vista tecnico quindi si parla proprio della questione di termini relegati all'attività laboratoriale e all'attività scientifica mentre quest'altro tipo di valutazione è la valutazione formativa un po' autovalutativa che è quella che viene svolta sia all'inizio che è stata svolta sia all'inizio del progetto dei progetti quindi utilizzo come dicevano già i colleghi di un form google quindi di un google moduli all'interno del quale sono stati inseriti una serie di domande relative alla familiarità degli studenti con progetti twinning le familiarità con la didattica laboratoriale con i vari tools informatici che sono stati vari tools utilizzati e quindi questa valutazione autovalutazione effettuata all'inizio prima di mettere in campo il progetto e alla fine del progetto ha consentito poi di valutare quali sono stati gli elementi importanti quindi gli elementi positivi che sono emersi dal sviluppo del progetto e training quali gli elementi negativi o comunque gli elementi su cui si poteva lavorare meglio sia quindi valutazione effettuata da parte degli studenti stessi che ha fatto sì che loro fossero coinvolti in misura maggiore nello sviluppo del progetto stesso sia da parte dei docenti che hanno sviluppato questo progetto qui ho elencato una serie di tools ma chiaramente voi ne conoscete altri ce ne sono altri dopo insomma la google suite con tutto quello che consente quindi tutti i documenti condivisi il form condivisi i fogli condivisi insomma gli stessi che ha fatto vedere che ha insomma mostrato Enrica poi abbiamo utilizzato canva genially flipgit per anche per scambiare dei vocali degli audio in modo diverso che non utilizzando l'audio del telefono e poi i quiz scout per organizzare i survey il padlet anche se adesso appunto il padlet può essere sostituito da alcune funzionalità proprio del Tspace come la twinboard per cui come giustamente diceva Alexandra di fare un uso insomma non così esagerato di questi padlet e meet per organizzare noi vabbè meet perché nella nostra scuola e anche i partner abbiamo la google suite quindi utilizzavamo meet perché era uno strumento che i ragazzi possedevano in quanto ognuno aveva l'account però questo era a destra vedete che c'è una schermata del forum che è questa parte del space all'interno del quale gli studenti possono scambiare delle informazioni molto interessante da utilizzare perché la loro è la vera e proprio è un modo che il twist space è una parte del twist space che spesso non viene utilizzata nei progetti ma che è veramente interessante perché consente ai ragazzi di parlare l'un l'altro oppure di organizzare dei gruppi internazionali e fa sì che questi gruppi internazionali si parlino quindi come all'interno del forum o all'interno delle chat ho visto progetti in cui si utilizza ad esempio whatsapp per fare questo lavoro ecco non sarebbe correcce è molto meglio utilizzare le funzionalità del twist space visto che queste funzionalità esistono come prodotto finale qui vi faccio vedere è anche noi abbiamo creato un ebook collaborativo dalle foto un po' si vede poi vi farò vedere meglio linkando l'ebook ecco vedete che c'è quindi ogni gruppo internazionale ha usato secondo la propria modalità operativa ha creato delle indicazioni che sono state passate a un altro gruppo e poi quest'altro gruppo ha prodotto il video ecco quindi per esempio questo è un 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 esperimento questi questo gruppo di studenti ha preparato tutta la parte diciamo operativa quest'altro gruppo di studenti invece l'ha realizzato e in queste book che è stato sono stati rappresentati tutte le attività che i ragazzi hanno svolto torno alla presentazione dunque ve la rimetto di nuovo in modalità condivisa e in modalità schermo intero con elemento importante che di cui ha già parlato hanno già parlato in tanti è la disseminazione ora quando noi tutti pensiamo alla disseminazione spesso pensiamo alla disseminazione post progetto quindi disseminazione intesa facciamo in modo che gli altri vedano che cosa abbiamo fatto ecco pensiamo che la disseminazione in realtà è tutto il processo operativo quindi esiste una disseminazione all'inizio quindi anche una comunicazione all'interno della propria scuola o alla comunicazione all'interno degli organi predefiniti quindi il collegio docenti consigli di classe l'inserimento on eftop perché spesso anche all'interno della scuola stessa non è ben noto lo sviluppo di un progetto e-twinning per cui spesso uno si fa il progetto all'interno della propria classe con i propri alunni ma comunicarlo all'interno del collegio è una cosa importante così come è una cosa importante che la scuola faccia propria questa attività e che quindi la inserisca nel piano dell'offerta formativa annuale o triennale e altra cosa interessante sarebbe individuare all'interno della scuola un'area proprio fisica in cui inserire una bacheca in cui inserire i risultati dei diversi progetti foto immagini in modo tale che anche chi non ha mai sentito parlare veda che cosa succede la disseminazione in fase di sviluppo nel senso che è possibile è vero come diceva Alessandra che nelle superiori i genitori non vengono mai coinvolti o coinvolti molto poco nell'attività di twinning però è possibile all'interno del progetto inserire anche come guest come ospiti invitare i genitori e quindi perché no far sì che i genitori vedano quali sono le attività che esolgono i loro figli quindi fare questa disseminazione durante lo sviluppo del progetto e poi sì la fase finale quindi sul sito della scuola durante l'open day o la pubblicazione su riviste specifiche come vi ha fatto anche vedere Enrica penso di essere stata super veloce perché io vi ho presentato in modo insomma molto celere quelle che sono state le attività di questo mio progetto e di un altro progetto simile non so se avete delle domande relative invece a dei progetti magari anche di tipo scientifico ma che non necessariamente riguardano attività laboratoriali siamo qua grazie Maria per il tuo intervento ci sono un paio di domande da parte dei nostri partecipanti ed una è come si fa ad invitare gli alunni sul forum di twinning come giustamente anche dicevi tu è uno strumento molto utile per far collaborare gli alunni tra di loro non so se vuoi magari illuminarci ecco io immagino che questa domanda dunque una volta che i ragazzi sono iscritti nel twin space adesso io non lo so a che livello siamo perché quando i ragazzi sono iscritti nel twin space quando si inizia un progetto c'è una parte del twin space che prevede l'iscrizione degli studenti all'interno del twin space quindi si il docente inserisce gli studenti io suggerirei di non inserire nome e cognome magari nome puntato il cognome e crea delle password per ogni studente quindi il docente ha un elenco di nominativi con relativa password passa questa password agli studenti e gli studenti si collegano al sito e accedono con questa password dopodiché in quel momento sono inseriti all'interno del twin space e possono collaborare all'interno del twin space e quindi anche nel forum del twin space grazie inoltre vi ricordo che abbiamo condiviso anche in chat il link per i nostri tutorial che sono veramente molto esplicativi su tutti i dettagli di utilizzare la piattaforma quindi vi consiglio e vi suggerisco di esplorare anche con la sezione del sito che è veramente utile e di supporto e poi eventualmente di contattare il nostro helpdesk che è sempre disponibile per aiutarvi su tutto ciò che è la questione diciamo tecnica di utilizzare la piattaforma un'altra domanda quante ore di lezione ha richiesto lo sviluppo del progetto di statistica quanti incontri in videoconferenza allora dunque il numero di ore in realtà non me lo ricordo più perché però diciamo che in realtà le ore di lezione vi posso dire quest'anno sto facendo questo progetto di statistica con altre due scuole partner l'anno scorso abbiamo lavorato con l'altra una un'altra classe diciamo parallela nella stessa scuola nostra della prima del liceo classico e abbiamo utilizzato cioè però loro la mia collega non era esperta di twinning quindi ho preferito lasciar perdere però diciamo l'argomento era sostanzialmente lo stesso cioè era una navigazione sicura in rete e abbiamo chiesto agli studenti della scuola in realtà le ore sono quelle che la maggior parte delle ore sono quelle che mi servono per spiegare statistica quindi i concetti teorici e poi l'applicazione pratica utilizzando ehm utilizzando google google togli quindi l'uso delle varie funzioni eccetera per quanto riguarda eh ovviamente poi ho dovuto spiegare ai ragazzi come si entra nel twin space come si lavora nel twin space eh come si fa a collaborare con i partner e questo però appunto come si lavora anche in 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 google come si collabora a distanza perché spesso i ragazzi usano eh google workspace come se fosse un diciamo come se fosse libre office o office di microsoft nel senso che non hanno presente la la potenzialità collaborativa quindi eh questa è una cosa che certamente ho dovuto insegnare però è una ricaduta importante perché una volta che poi i ragazzi l'hanno imparato questa cosa la sanno fare e da lì in poi serve non solo per le classi successive della diciamo all'interno della scuola ma anche per eventualmente non so all'università al lavoro se devono se smettono di di andare a scuola insomma quindi ehm quante videoconferenze abbiamo fatto direi che ne abbiamo fatte eh in quel progetto lì ne abbiamo fatte due o tre sicuramente una all'inizio quella di icebreaking sicuramente una alla fine non mi ricordo se in quel progetto abbiamo fatto un'attività eh intermedia però questo dipende appunto eh per esempio l'anno scorso mh ho fatto questo progetto sulle strade romane che aveva una mobilità Erasmus abbiamo fatto abbiamo organizzato ehm una videoconferenza di icebreaking una conferenza videoconferenza finale poi a questo il primo di ottobre la conferenza di icebreaking poi a metà dicembre era venuta l'archeologa a scuola e avevamo fatto questa lezione condivisa poi a marzo eravamo andati in Francia con la mobilità Erasmus e da lì ci eravamo collegati con i partner con i ragazzi che erano rimasti a casa nelle due scuole nelle altre due scuole partner quindi i nostri a Genova e gli altri in questo diciamo vicino a Budapest in questa cittadina vicino a Budapest e poi e poi appunto quella conclusiva che è stata fatta alla metà fine al seconda metà di maggio non so se ho risposto in modo esauriente eventualmente sono qua a disposizione Enrica non vedo altre domande scritte nel documento però se qualcuno dei partecipanti ha voglia di fare una domanda a voce può alzare la mano e gli attiviamo l'auto eventualmente per alcuni di cui sono un po' l'auto una domanda orale delle domande quindi alzate è difficile rompere il ghiaccio sempre un po' difficile però alcuni audaci ogni tanto si lanciano se serve che noi vogliamo far vedere come si naviga all'interno di un progetto come si creano cioè non come si creano le pagine ma un'idea di come diciamo un progetto finito per esempio fare il confronto tra un progetto finito e un progetto appena iniziato magari questo potrebbe essere una cosa interessante per per riuscire a capire come strutturarlo ecco il progetto però se diciamo se abbiamo anche i tempi per poter organizzare ora al volo un'attività del genere ad ogni modo ecco per quello abbiamo anche creato i tutorial proprio sono dei video tutorial che permettono di avere una visualizzazione abbastanza rapida e fluida di tutte le varie i vari step che comporta la creazione di un progetto sui twinning veramente cercate di sfruttarli al massimo perché sono a vostra disposizione materiale molto utile io voglio dire Giulia che noi abbiamo presentato dei progetti complicati magari all'apparenza con tante cose allora uno il consiglio che posso dare che vorrei dare se uno è all'inizio come mi sembrava di capire di iniziare affidandosi anche agli twinner esperti che non necessariamente ognuno di noi deve essere il fondatore di un progetto si può anche affidare a un twinning esperto di un altro paese e farsi nel primo progetto farsi guidare in qualche modo e scoprire insieme a questi esperti le potenzialità del twin space potenzialità di un progetto cioè non avere non farsi spaventare dal fatto di dover mettere tutto insieme organizzare tutto per conto proprio perché la questione collaborativa vale anche per noi docenti quindi è proprio per conto con il twinning c'è proprio la possibilità di imparare facendo e quindi questo lanciarsi poi non è detto che all'inizio si riesca a fare il progetto dal premio nazionale ecco quindi iniziare un poco come diceva anche Alexandra io penso che l'idea di un di un di un webinar sulle STEM sia proprio quello di dire anche se sono delle tematiche che sembrano così lontane no dal dall'e-tweening non abbiate paura è possibile organizzare abbiamo anche visto progetti di primaria sulle STEM adesso noi siamo tutti e due della secondaria però progetti di primaria sulle STEM bellissimi nonostante poi i ragazzini sono ancora più piccoli ho contribuito a sciogliere il ghiaccio io non ho idea di chi della di chi ci sia dall'altra parte quindi se sono docenti di che cosa sono docenti mi piacerebbe saperlo un po' un po' timidi purtroppo nell'online è così dai io penso che potremmo anche chiudere allora perché appunto ora mettersi a fare un'attività nuova è troppo lunga anzi però grazie Enrica per la disponibilità però direi che forse non è il caso e se non ci sono altre domande io chiuderei qui e ringrazio tantissimo appunto i nostri relatrici Maria Zambrotta dal Piemonte Enrica Maragliana dalla Liguria e poi la nostra fantastica Giulia che ha fatto la regia dell'evento e vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie ancora ciao a tutti grazie a tutti ciao buon lavoro a tutti arrivederci alla prossima grazie a tutti